Ex fea di Pescara, la regione decida e risolva l'ampas salvaguardando il nostro mare consentendo al cantiere di riqualificazione di ripartire con i lavori. E questa la sintesi dell'interpellanza presentata in consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Antonio Blasioli che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa dinanzi al fabbricato storico sulla riviera nord di Pescara assieme ai consiglieri comunali Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Giovanni Diacopo, Mirco Frattarelli in rappresentanza di tutti i gruppi di centro-sinistra. La regione sostengono i rappresentanti dell'opposizione in qualità di proprietaria dell'area deve procedere con la bonifica prima di tutto per evitare che le sostanze inquinanti si estendano verso l'esterno del cantiere, verso il mare e poi ancora per consentire la nascita del Museo d'Arte Contemporanea, la piazza e gli spazi espositivi con parcheggio. Il bando è della regione a guida centro-sinistra del 2017 con l'assegnazione a una società che doveva realizzare qui un polo sociale ma anche museale, una piazza e 54 parcheggi. Un bel investimento in una zona centrale di Pescara a fianco al nostro lungomare. Purtroppo già siamo intervenuti su questa vicenda, per una prima volta con una risoluzione del 2019 perché la pratica non si sbloccava e poi adesso interverremo nuovamente con una specifica interpellanza per chiedere alla regione Abruzzo di bonificare quest'area. Che cosa è successo? È successo che la società che doveva realizzare nel momento in cui è entrata ha cominciato anche su indicazione dell'Arta a fare dei piani di indagine su quello che c'era sotto questo terreno. Ha trovato quattro cisterne di idrocarburi e altro materiale solvente che probabilmente deriva dai magazzini delle officine che c'erano qui dell'ex FEA che potrebbero inquinare la falda. Non è quindi soltanto un problema di riqualificazione di quest'area che è centrale che è importante per tutta quanta la zona perché sono stati tolti anche dei parcheggi ma è anche un problema di limitare il più possibile il pericolo di inquinamento. Questa è proprio la differenza fra un annuncio e il poter portare a termine quello che si è annunciato perché in realtà l'annuncio di questo intervento è stato fatto in comune più volte il comune ha convocato le commissioni, ha convocato i padronisti di questa riqualificazione e oggi che c'è un problema il comune è scomparso. Quindi questa purtroppo è esattamente la differenza che c'è fra quando si fa un annuncio e lo si porta a termine e quando si fa un annuncio solo fino a se stesso per fare propaganda come purtroppo in molti casi sta avvenendo. Noi crediamo che il comune abbia il dovere etico di farsi promotore presso la regione di questa risoluzione di questo problema perché altrimenti diventa complice soltanto di un lassismo perché oggi nei fatti è complice di questo lassismo perché è anche completamente scomparso dai radar.